Grazie a tutti. Con la laurea magistrale ho iniziato a lavorare per una compagnia che si chiama Circle.me, è una startup con sede a Milano, startup nata circa 3-4 anni fa, io sto lì da quasi due anni e mi occupo di backend, cioè della parte logica di tutta la struttura, tutta l'applicazione. Ovviamente la struttura backend è realizzata attraverso il framework Ruby on Rails, ma da bravo sviluppatore che lavora in una startup mi occupa un po' di tutto, quindi diciamo le keyword che sono presenti nella mia giornata di lavoro quotidiana sono anche AngularJS, Amazon Web Services, MySQL, Heroku, Git, ci occupiamo alla fine un po' di tutto. E andiamo avanti. L'agenda di oggi è la seguente, quindi vi spiego al volo l'ambiente di sviluppo, che in realtà non c'è proprio un IDE integrato, ma è un editor, dei tool che servono per eseguire Ruby on Rails sul mio PC, sul mio Mac, e così via. Poi c'è una parte di introduzione al framework di Ruby on Rails, dove vi spiego un po' cos'è, a livello astratto diciamo, senza guardare codice. Poi c'è una parte di Ruby, perché comunque Ruby on Rails si basa su Ruby e va spiegato anche un po' la sintassi di Ruby, che è abbastanza semplice e soprattutto è molto intuitiva, cosa che è molto interessante perché è un sacco espressiva. Poi passiamo a creare un'applicazione di test e vi faccio vedere un po' che è tutto in qualche modo automatizzato, se si è in grado di... se si seguono le convenzioni di Rails, quindi tante varie convenzioni che permettono allo sviluppatore di sviluppare in maniera molto più produttiva e quindi molto più veloce. Infine, ci sarà una parte dove ci sarà una migrazione, un esempio di migrazione, suppongo che voi non sappiate nemmeno cosa significa la migrazione, non è un cambiamento a un database, quindi ci sarà un database collegato a quest'app e potremmo ogni modifica alla struttura del database in Ruby, in Rails viene chiamata migrazione. Dunque, ambiente di sviluppo. Sicuramente abbiamo bisogno di Ruby, quindi di una macchina virtuale, oppure possiamo installarlo sulla macchina locale, qui non si può fare, vi faccio vedere al volo questo fantastico servizio che è Bitnami, che vi permette di scaricare immagini di macchine virtuali con tutto ciò che è necessario per installato, ad esempio un Ruby con Ruby 2.0 e magari vi evitate un po' di installare un po' di roba manualmente avendo già tutto pronto e sicuro e funzionante da Bitnami. Questa qui, suppongo abbia solo Ruby, non l'ho ben indagato in quanto io sviluppo il locale senza virtualizzare nulla, ma in caso voleste fare come me, vi serve Ruby Version Manager, che è un tool che permette di gestire le versioni di Ruby on Rails, di Ruby, scusate, e mi dice posso installare diverse versioni, dirgli quali utilizzare, eccetera, eccetera. Sicuramente un altro strumento da utilizzare è il gem, cioè le gemme in Ruby sono tutti quei package, tutte quelle librerie che si possono installare in maniera molto semplice e veloce. Postgres perché ovviamente abbiamo detto che sarà integrato tutto con un database, solitamente utilizziamo magari di base, anzi Ruby on Rails utilizza MySQL, ma visto che poi andremo a, come si suol dire, deployare l'app su un servizio chiamato Heroku ed Heroku non supporta nativamente MySQL, ma supporta nativamente Postgres, ovviamente cambiamo scelta e puntiamo per Postgres per fare un esempio. Per, diciamo, tutte queste cose che vi sto dicendo io, le potete trovare ovviamente online in una maniera semplice, spiegate anche abbastanza bene al link qui che trovate. Ovviamente dopo avrete la registrazione di questo webinar e le slide, quindi non state a prendere noto delle cose. Proseguiamo. Allora, Ruby on Rails è, come ci dice Wikipedia, o semplicemente Rails è un web application framework open source scritto in Ruby. e Ruby è un linguaggio molto dinamico, orientato agli oggetti, creato, se non erro, la prima volta nel 95, quindi abbastanza un bel po' di tempo fa, e che tuttavia ha preso piede, quindi è diventato comunque famoso con l'arrivo di Rails, perché prima di Rails Ruby sostanzialmente non lo guardava nessuno. Rails è un full stack framework che incoraggia l'utilizzo di diversi pattern di programmazioni, quale convention over configuration, quindi invece di andare a configurare mille cose, si danno, c'è già una configurazione prestabilita e basta seguire quella configurazione, quella convenzione e tutto sarà più facile e più veloce da creare. Don't repeat yourself, active record, che è un pattern che permette l'utilizzo, la configurazione appunto di tabelle nel database, permette di interagire con il database in una maniera molto semplice, e un altro pattern abbastanza famoso che è model view controller, che sostanzialmente ci permette di dividere tutta l'applicazione in reparti stagni, diciamo che sono model view e controller, il model è tutta la parte che si interfaccia con il database, quindi i dati effettivi, la view sono la parte ovviamente front end, quindi è la parte che vedete una volta che accedete al servizio, il controller è l'elemento che emette in connessione model view. Per notare, per dovete rinnotare, utilizzo Rails 4.19 su questo webinar e anche Ruby 2.1.5. Dunque, iniziamo. Una volta installato Ruby, quindi teoricamente se scaricaste solo l'immagine da Bitnami, potreste fare questo fantastico comando, che è una console interattiva di Ruby, che dovrebbe essere interactive Ruby qualcosa, interactive Ruby. Quindi possiamo iniziare a prendere, a iniziare a vedere da più vicino il codice di Ruby, la sintassi di Ruby. Io mi eseguirò una per una tutte quelle istruzioni, spiegandovi ovviamente il significato e il funzionamento. Ovviamente le prime sono abbastanza semplici, sono delle stampe, tipo system out print line, java, eccetera, eccetera, eco, eccetera, eccetera. Le operazioni le sappiamo fare tutti, col meno, col più, questa non funziona perché c non è un intero ovviamente, ma questa è abbastanza semplice. Sommare string, poi possiamo, qui c'è un'importante distinzione fra questo e questo. Dunque, questo, vediamo che classe è una stringa, mentre o è un simbolo. C'è questa piccola distinzione, ma piccola ma importante distinzione in Ruby, tra le stringhe e i simboli. Le stringhe sono degli oggetti che vengono allocati in memoria ogni volta che viene allocato un oggetto string, viene allocato in un'area diversa di memoria, quindi se io faccio così, 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 vengono allocati quattro diversi O in memoria. Se utilizzo i simboli, queste quattro esecuzioni di O puntano alla stessa area di memoria, quindi in un programma, quando abbiamo a che fare con tante variabili e tante stringhe, ovviamente, dove è possibile, meglio utilizzare i simboli, specialmente se sono appunto stringhe molto ricorrenti, appunto stringhe molto ricorrenti. Per farvi vedere effettivamente questo, c'era un comando che, se non erro, è object, un comando, un metodo, questo qui è l'area, il puntatore è l'area di memoria, se non sbaglio, comunque è un indice di dove è memorizzato questo indirizzo, come potete vedere cambia. Se facciamo la stessa cosa con un oggetto di tipo symbol, rimane sempre lo stesso e come potete vedere è un'area a parte dell'area di memoria, viene memorizzato, Rails dedica una parte iniziale appena viene tirato su un processo ai simboli e come potete vedere rimarrà sempre lo stesso. poi i commenti, quindi questo è un commento ma non serve a nulla, poi iniziamo, le cose iniziano a farsi più interessanti, quindi un array, questo è un array, e possiamo sommare array come potete vedere come potete vedere prende gli elementi, fa un'unione dei due array o con una end e ovviamente quello che ci torna è un oggetto di classe array, sample è un metodo che data l'enorme espressività di Rails ci prenderà un elemento a caso e quindi possiamo avere un array, ci serve di fare del benchmark, delle cose casuali, questo è il metodo da utilizzare. poi iniziamo con delle sintassi un po' strane, sembrano strane, 3 times, anzi, se vogliamo un esempio, do and, qui ci va un qualcosa, come si può abbastanza comunque capire da un po' della sintassi, 3 times, do qualcosa and, farà tre volte quello che c'è scritto qui, quindi se io metto puts i, mi dice, mi stampa tre volte i, un altro, questo do and contiene all'interno un blocco che viene passato a questa funzione, un altro modo per eseguire un blocco con Rails è attraverso le graffe ed è sostanzialmente la stessa cosa e volevo dire un'altra cosa sì, sostanzialmente le graffe si utilizzano in questa sintassi a livello di una riga quindi vediamo un attimo faccio vedere un esempio allora quindi 3 times questo è un esempio l'altra sintassi quindi 3 times do and si utilizza più in caso ci siano più istruzioni in questo esempio quindi continuiamo siamo arrivati a questa anzi questa sotto ops scusate quella sotto che è 5 times quindi questa volta 5 volte viene passato un come vedete un elemento i questo qui è intuitivamente è l'indice della volta dell'iterazione quindi all'inizio sarà 0 poi sarà 1 2 3 fino ad arrivare a 4 vediamo un altro elemento un altro comando comando speciale di ruby che è una if su una riga quindi facciamo una cosa per volta facciamo i.od quindi stampiamo se i è pari eh scusate è dispari e questo è il risultato adesso vogliamo fare che se è dispari mi stampa dispari altrimenti mi stampa pari quindi una sorta di if possiamo farlo con questa sintassi quindi questo qui i.od o.interrogativo è il nome del metodo non è in ruby i metodi con il punto interrogativo solitamente tornano true o false è una convenzione di ruby quindi ci chiediamo se è dispari se è dispari stampiamo odd se è pari stampiamo pari ovviamente questo è il risultato e viene tutta la riga di codice viene letta diciamo da testa a sinistra quindi viene prima eseguita questa istruzione quindi i.od è dispari la if diciamo la if in una riga e viene stampata successivamente quindi per rappresentarlo con le parentesi questo è un po' il risultato ma che è decisamente lo stesso successivamente siamo arrivati a require ci sono diversi librerie già comunque integrate dentro ruby anzi questa qui è più di credo di rails ma non sono sicuro dove carica delle altre funzioni delle altre funzionalità ad esempio posso dire una settimana fa e mi da la data di una settimana fa posso chiedere se una settimana fa sta diciamo avanti temporalmente rispetto a un mese fa mi dice di sì infine l'ultimo l'ultima riga che è abbastanza applicata da riscrivere soprattutto meglio riscrivere sempre così voi anche vedete avete anche il tempo di capire adesso intanto se finisco a scrivere vi faccio una domanda se potete capire più o meno cosa fa questa riga così vediamo interagiamo un po' che non fa male ah no prima vi devo spiegare una cosa però anzi quindi la cancello questa sintassi che non vi ho spiegato scusate questa qui è un mi sembra è un range sì ok un range quindi è un modo veloce di creare in questo caso quindi se faccio 1.100 to a mi torna un array da 1.100 quindi adesso dovreste avere tutte le le informazioni che vi servono io intanto inizio a ricopiare questa riga e intanto voi se scrivete sulle domande cosa secondo voi fa questa riga che poi non è una domanda ma una risposta ma questo è un altro discorso di più uguale uno if io intanto controllo che cosa mi avete scritto se mi avete scritto a una persona ha scritto stampa tutti i numeri maggiori di 50 compresi tra 1.100 vi do un ok un'altra persona ha scritto un ciclo ripetuto 100 volte che stampa un numero casuale se è maggiore di 50 ok io vi do altri 10 secondi stampa video numero randomico tra 1.100 tra 1.100 io intanto eseguo il comando io lo eseguo un po' di volte e vediamo che stampa numeri che si avvicinano a 50 analizziamo bene questo comando quindi lo prendiamo da qua allora il punto e virgola serve per eseguire tutto codice su una stessa riga quindi posso fare puts se facessi così ciao puts ciao mi da errore se ci metto punto e virgola non mi da errore quindi serve per fare per mettere tutto sostanzialmente su una riga quindi la prima cosa che vado a fare è uguale 0 adesso per 100 volte questa qui è una if alla javascript quindi esegue l'operazione i più uguale 1 che è la stessa cosa di java i più più solo che ruby non c'è se i questo array di 100 elementi prendiamo un esempio un elemento a caso è maggiore di 50 quindi sostanzialmente è una stima di quanto il metodo sample sia effettivamente casuale quindi praticamente quindi somma 1 ad se in un array con elementi da 1 a 100 prendendo un elemento casuale quell'elemento è maggiore di 50 adesso non dovrebbe essere proprio 50 non mi sono fatti i conti precisamente perché magari l'array da 1 a 100 forse è 50 non so in quale caso va ma so per giù questa è l'idea e se vedete infatti mi da sempre più o meno valori intorno al 48 scusate al 50 per migliorare per vedere se effettivamente questa cosa ha senso possiamo aumentare queste dimensioni di questi array quindi questo qui è 100.000 e quindi la metà dovrebbe essere 50.000 e vedere se a parte ci mette un casino di più effettivamente non mi sembra molto più efficiente come misurazione ma comunque questo era un comando per darvi un po' l'idea delle potenzialità di ruby con banalmente una riga di codice un po' complessa ma banale comunque è espressivo perché una volta che ci si prende la mano è abbastanza intuitivo andiamo avanti adesso dobbiamo fare una vera e propria app quindi io esco dalla console interattiva mi creo una nuova cartella app e adesso dobbiamo utilizzare i generatori tutta la potenzialità di rails che sta in un particolar modo attraverso i generatori quindi si permettono di creare strutture che si comunque ripetono nel tempo in maniera semplice e veloce la prima riga di create draw up è semplicemente controllare che postgres funzioni perché altrimenti non funziona nulla e quello che andiamo a fare è new nome dell'app quindi avevo in mente di fare una cosa semplice quindi ora che ora vi spiego meno di postgres postgres sql perché di base abbiamo detto che usa mysql adesso vengono creati tutte queste sono file che vengono creati bene eseguito bundle install che serve per diciamo far matchare tutto ciò che serve tutte le tutta questa applicazione di test che serve abbiamo finito adesso la prima volta che vi faccio vedere ovviamente mi ha creato una cartella con il nome dell'app dentro la cartella ci sono una marea di file vediamo questa qui è tutto ciò che ha creato spiego al volo app è tutta la cartella con il codice quindi ci saranno gli asset che sono ad esempio le immagini javascript le foglie di stile i controller sono come potete vedere model view controller fanno parte del pari di prima quindi qui ci andremo a mettere nel controller metteremo appunto il nome di controller negli helper gli helper sono delle classi aggiuntive che ci possono tornare utili e possono essere riusate su tutta l'applicazione i mailer sono quegli elementi che mandano le mail perché in una web app che degna di nota ci sono anche mailer model e view abbiamo detto fanno parte del pattern m2c e bin sono quei comandi che servono per fare determinate cose che alcune ve ne spiego alcune no config sono i file di configurazione questo è sempre per configurare quando radeployata l'applicazione determinati parametri questo è dove andranno messe le migrazioni gemfile gemfile log servono per listare le gemme che da integrare in questa applicazione poi abbiamo lib sono libri esterne che sempre vengono integrati i log sono i log dell'app public sono tutti quei file che di base vengono resi pubblici come se mettessimo dei file dentro un web server quindi banissimo robux.txt che serve per essere indicizzati da google rakefile è un file che permette di eseguire i cosiddetti raketask che sono dei task che possono essere eseguiti sull'applicazione in modo asincrono in modo asincrono test dove vanno i test temporanea è una cartella dove vengono messe cose temporanee come si chiamisce bene vendors ho anche altri libri di terze parti generiche ok adesso vi faccio vedere che da qui posso inserire a lanciare non più IRB per fare tutte quelle cose che abbiamo fatto prima ma Rails C che sta per Rails console in cui viene caricato un ambiente di la stessa cosa di verità sostanzialmente contestualizzata all'app attuale ad esempio posso chiedere in che ambiente sono che ambiente di sviluppo se è di sviluppo appunto di produzione di staging delle varie fasi appunto della vita di un'applicazione un altro comando che posso eseguire Rails server o Rails S che lancia un web server sulla porta 3000 e ci carica appunto l'applicazione che abbiamo appena creato adesso se io vado sul localhost 3000 a parte che vedo i log ma vedo anche un bel errore mi dice che non c'è il database esegui bin rake db create bla 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 per creare il database questo perché viene generato automaticamente l'integrazione con postgres ma ovviamente il database lo dobbiamo creare noi io questa la tengo aperta apro un altro tab web webinar app insiders rake come rake sta dentro bin quindi ns bin eccolo lì rake db create questa è la parte più cruciale di tutte potrebbe non funzionare pare che ha funzionato adesso dice anche di eseguire db migrate ma visto che le migration non ci sono credo sia abbastanza inubile come potete vedere farlo non dovrebbe fare nulla infatti altrimenti stampa video qualcosa adesso magicamente è andato via l'errore quindi già abbiamo un db locale funzionante questa è una pagina generica di di test che ti dice ok a bravo funziona tutto ma ovviamente non c'è niente ti dice usa i rails generator per creare i moduli controller fai una route per fare altre cose e configurare il base ma questo non ci crea nulla adesso facciamo una bella cosa molto interessante sotto il punto di vista del potenziale di ruby creiamo una repository con git non so spero che quantomeno tutti conoscono git serve per mantenere mantenere il codice gestire è una sorta di svn è la stessa cosa di svn in un altro in un altro contesto molto abbastanza comunque famoso quindi creiamo una una repository e mi dice inizialize empty git repository adesso se chiediamo a git lo stato appunto della repo mi dice che ci sono tutti quei file che non sono stati traccati da git perché appunto abbiamo creato adesso io li aggiungo tutti per comodità e mi dice che sono tutti questi nuovi file vanno commitati e quindi messi dentro la repository io faccio il primo commit il commit è il primo commit it's the first commit voilà mi ha aggiunto al commit tutta sta roba e adesso mi dice nulla da da commitare abbiamo fatto tutto adesso bisogna arrivare al volo di rogu che è un quale meglio modo di spiegarvi cosa è rogu se non andare sul sito di rogu quindi è una platform as a service se funziona che ci permette a noi sviluppatori di deployare in modo semplice e veloce applicazioni al volo sostanzialmente specialmente se seguite con Ruby or Rails credo funzioni anche con una JS ma non ne sono sicuro facciamo erogo create che cosa ci fa erogo create ci crea un'applicazione al volo quindi una completamente gratuito tra l'altro tutto ciò non è non si paga e allora ha creato un HTTPS quel nome stranissimo che già era lui automaticamente solitamente sono anche carini come il nome e mi dice git remote e roguad i remote su git sono delle cose che ci permettono di pushare diciamo mettere la repository locale su git quindi su git hub quindi remoto piuttosto che deployare un'applicazione adesso questa applicazione locale su un server remoto infatti se facciamo vediamo chiediamo git quali remote abbiamo integrati mi dice appunto eroku adesso se io faccio un push sul remote di eroku sulla branch master perché eroku di base considera buono per come come codice da mettere nella propria applicazione di test solo il codice presente nella branch master abbiamo fatto un push adesso capisce che c'è un'app di ruby rails tutto da solo non ho fatto nulla solo configurato git eroku ma bisogna farle e sta continuando sta facendo un po' di cose per far le stesse cose che abbiamo fatto in locale prima tra l'altro adesso si sta scaricando e si sta installando tutte le gemme che di base vengono usate appena si crea un'applicazione tra l'altro intanto mi apro allora vediamo dove siamo webinar app visitors ok quindi le gemme che sono nel gem file quindi tutte queste gemme vengono utilizzate più altre vengono utilizzate a parte teoricamente dovrebbero essere tutte qui adesso sta completando il primo deploy ha quasi finito adesso dovrebbe fare comprimere pulire eccetera adesso sta precompilando degli asset quasi finito apparentemente è finito e adesso su quella indirizzo bruttissimo di prima ci dovrebbe essere la mia app bellissima che non fa niente quindi adesso se facciamo rock open ovvero apriamo quella url stranissima che è l'unico modo per farlo è questo perché altrimenti ricopiarla è impossibile ci dice che la pagina non esiste questo perché questo ambiente è di produzione questo di base capisce che è un sito di produzione piuttosto che far vedere questa pagina in produzione ci dice che non esiste ad esempio se andiamo su una pagina a caso qui abbiamo un bruttissimo errore tutto rosso perché siamo in un ambiente di sviluppo qui abbiamo c'è però il stesso errore in modo più carino più elegante adesso seguiamo ok abbiamo fatto deploy aggiungiamo una route su un application controller quando generiamo un'applicazione con il generatore in modo in cui abbiamo fatto prima viene generato un application controller vuoto e quello che vogliamo fare adesso è creare una tipo localhost slash hi dove mi stampa il mio ip l'ip della richiesta e lo user agent lo user agent è il browser con cui sto navigando quindi dobbiamo innanzitutto fare due cose definire una route quindi un percorso per cui slash hi corrisponde a qualcosa a un'azione a un metodo che sarà presente qui e qui dobbiamo fare un po' di cose per far funzionare il tutto quindi per definire le route si definiscono qui tutto questo è già fatto da soli non ho fatto nulla e se leggete qui c'è un sacco di modi per definire route questo è il modo più semplice per fare webinar e consiste nel definire una route tipo get quindi get post eccetera eccetera ad un determinato percorso quindi qui sarà hi questa sintassi con questo carattere di cui adesso mi sforgio il nome il cancelletto e si riferisce a questo deve essere il nome del controller questo deve essere il nome del metodo quindi visto che il controller si chiama application facciamo application hi e la route abbiamo definita adesso se facciamo se facciamo refresh cambia d'errore mi dice non mi dice più che non esista la pagina mi dice che non c'è l'azione in application controller vero perché ancora non l'abbiamo definita per definire qualunque azione o metodo in rails si fa con def and def scusate nome metodo and adesso abbiamo definito vediamo che ci dice ci dice che manca il template questo perché di base essendo una una get e non ha specificato nessun formato di tipo ad esempio json o xml o quant'altro capisce che è una pagina html ma non trova il template quindi non trova il codice html questo al volo vi faccio vedere che se volessi forzare il ritorno diciamo del metodo a un oggetto json che è questo questo qui adesso funziona mi torna proprio quello che ho detto io però abbiamo detto che vogliamo far tornare una pagina html quindi dobbiamo creare un template per questa azione dunque intanto qui sono cambiate delle cose abbiamo cambiato aggiunto il metodo e aggiunto la route ho solo eseguito git d che serve ci fa vedere le differenze rispetto all'ultimo comment adesso abbiamo detto dobbiamo creare il template quindi touch serve per creare file dentro app views nome del controller tra l'altro non c'è la cartella ancora quindi devo fare prima la cartella app views application adesso faccio il file app views application i.html .herb serve per dare un'altra estensione al file che viene processata prima di renderizzare appunto di far ritornare il codice html che è embedded ruby quindi in questo modo avremo modo scusate il gioco di parole di inserire tag ruby qui dentro adesso se tutto va bene io ho tolto il codice qui qui non dovrebbe darmi più errore voilà mi da una pagina bianca perché questa è bianca se io scrivo ciao ciao mi da ciao ciao adesso vogliamo dire abbiamo detto che vogliamo farlo in modo che ci sia il nome dell'ip e lo user agent quindi diciamo hi queste caratteri strani sono tag ruby appunto per diciamo sono modo per dire a ruby di interpretare tutto ciò che è qui dentro come codice ruby ovvero se io scrivo una cosa che non esiste lui mi dice non conosco questa variabile perché così è giusto che sia ti scrivo ciao mi stampa ciao se non se tolgo l'uguale interpreta solo l'espressione ma non la stampa quindi non stampa ciao è brutto abbiamo detto che dobbiamo stampare l'ip e adesso l'ip è lo user agent di base ogni l'application controller ha tutti i controller hanno un oggetto tipo request che comprende al suo interno dati riguardo alla richiesta come ad esempio lo user agent e mi chiede eccoci qua imozilla adesso in realtà questo è il vero browser però funziona e poi mettiamo un br così la pagina non è così brutta in realtà lo è ma va bene questo perché poi vorrò creare una tabella nel db dove memorizziamo tutte le persone che visitano questa pagina questa non ve l'avevo detta ok e qui ci stampiamo bello l'ip request questo sarà il testo che mostriamo ogni volta adesso questo l'abbiamo fatto dobbiamo iniziamo a fare un bel commit tutte le cose nuove queste qui sono le stesse di prima visto che i file non sono questo hi html.herb non è un file nuovo non è stato traccato non me lo dà come differenza io aggiungo tutto perché sono sicuro che fa tutto bene facciamo commit add hi route tra l'altro voglio fare in modo che se arrivo qui vado direttamente su hi oppure diciamo eseguo lo stesso codice perché non ha senso che se uno va sulla route di un dominio mi torna la pagina non esiste quindi cambiano un altro route e c'è questa questo comando fantastico che mi permette di settare la route di tutte le route scusate il gioco di parole un'altra volta qui sarà la stessa cosa e adesso se vado qui mi torna di là non torna di là non fa redirect ma esegue lo stesso codice di che eseguirebbe nel caso andassi di qua ok quindi facciamo un altro commit alt root route route adesso dobbiamo generare una tabella chiamata visitatori questo lo lo facciamo attraverso un generate generate che gira la stessa cosa scaffold uno scaffold è un un elemento che intanto aspetta finisco di scrivere visitor e questo scaffold vogliamo segnargli un ip vogliamo che la tabella abbia un ip e uno user agent che sono di tipo string adesso vediamo che genera un sacco di file e in particolare i file li vediamo meglio qua ha generato sicuramente ha modificato il route nel senso che ha aggiunto questo ha aggiunto delle route per la risorsa che abbiamo creato lo scaffold che abbiamo creato che questo comando crea da solo tutte le varie route che ci permettono di interagire con un modello di tipo visitatore quindi avrà creato una pagina dove ci sarà una lista di tutti i visitatori una pagina per inserire manualmente un visitatore una pagina per fare la modifica una pagina per e credo basta comunque ha tutta una sorta di interfaccia vi faccio vedere subito che credo sia il modo migliore visitors ok mi dice giustamente che le migrazioni non sono state eseguite quindi ha un bel errore io eseguo la migrazione perché prima di tutto perché è stata creata qui se vedete una una migrazione add quindi create visitors da solo creato da solo quindi crea una tabella visitatori c'è un elemento string che si chiama ip un campo ip un campo user agent e i timestamp quindi create a death e update a death vengono creati da sole quindi adesso eseguiamo la migration quindi mi creerà la tabella adesso create visitors bla 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 questa la togliamo quindi adesso se torno qui non mi dovrebbe dare più errore infatti mi lista questo fa tutto da solo io non ho fatto nulla posso fare un visitatore manuale ip non sono un ip user agent non sono un user agent e crea un visitatore ovviamente questo non deve essere possibile qui è la pagina di show tutto ciò segue la filosofia rest quindi qui tutta questa logica la fa da solo adesso andiamo a fare in modo che se uno visita la root quindi la galost 3000 viene aggiunto un record qui quindi da bravi sviluppatori andiamo nel metodo high e creiamo visitor creiamo un nuovo record con ip request punto ip user agent request user agent adesso proviamo andare qui questa è la stessa pagina stessa cosa che torna prima adesso per controllare se effettivamente è cambiato qualcosa nel db lanciamo la console che a questo punto è contestualizzata nell'app quindi io so che ho una classe di tipo visitor posso chiedere quanti elementi ci sono mi sa che ho sbagliato a scrivere qualcosa count e ce ne sono due quindi se io tornassi facessi reload su questa pagina anteriormente dovrebbero aumentare eccola là perché ogni volta che visiamo la pagina si crea un nuovo visitatore per finire diciamo non per finire no perché non si eviterebbe mai di spiegare tutte queste cose ma un'altra cosa che voglio sicuramente fare non era cancellare 3000 ma era visitors era non permettere di fare tutte queste cose ma diciamo lasciare solo la lista sennò come potete vedere il primo visitor non è valido infatti lo cancelliamo cancelliamo subito vale ok quindi per fare ciò devo sicuramente togliere tutti questi elementi e questo nell'html di questa pagina ma anche vietare alcune route perché questa è rest e posso comunque arrivarci senza cliccare dal link di qua se sono a conoscenza della filosofia rest per fare ciò devo limitare abbiamo detto le route questa qui questa solo questa riga genera un sacco di routes che vi faccio vedere in questo modo queste tutte le routes disponibili per la mia applicazione queste qui sono le due che ho scritto manualmente queste tutte queste sono quelle che vengono generate solo a questa riga tutte quelle appunto resta ma io voglio solo l'index che è la lista e adesso se riesi quel comando dovrebbero essere un pochino di meno infatti sono solo tre perfetto questa è già una bella limitazione adesso infatti come controprova che tutto funziona facciamo refresh e non funziona più niente perché mi dice che i link questi qua sono degli helper di Ruby on Rails che ci permettono di creare degli elementi dei tag HTML in particolare questo è un link scritto sopra show che mi permette di fare appunto designare la pagina dove è listato il visitatore singolo ovviamente mi dice che non conosce visitor path perché visitor path è un modo per dire a Rails dammi la path quindi la url di un visitatore ma visto che l'abbiamo vietata non viene permessa quindi dobbiamo andare qui su questa pagina index visitor.index slash quindi index tanto ce n'è solo una togliere questo togliere questo perché non possiamo manco fare edit togliere questo perché non possiamo nemmeno fare destroy e nemmeno un new adesso se torniamo qua magicamente funziona tutto e voi non potete fare voi compreso me non posso più aggiungere manualmente l'unico modo per farlo è andare qua o su i ovviamente adesso facciamo un mega commit ovviamente questo non è il modo di fare i commit ma visto il tempo così si fa add scaffold visitors facciamo push così questa volta tra l'altro dovrebbe essere ho sbagliato a scrivere qualcosa non lo so questa volta è molto più veloce perché la prima volta devi installare un po' di cose sta compilando io intanto do un'occhiata se ci sono domande ma no ok abbiamo correttamente deployato ancora tra l'altro mi sa che già stava qua infatti non avremo un'altra va bene facciamo refresh vediamo dovrebbe credo dare errore no però se andiamo ah perché c'è ancora il link vecchio andiamo qua questo qui è il modo carino di dire c'è un errore abbastanza importante è questo perché non abbiamo eseguito la migrazione sulla macchina remota per fare ciò si utilizza questo comando eroku run rake db migrate quindi si dice ad eroku di fare lanciare questo comando sulla macchina remota e magicamente dovrebbe creare tutte le tabelle cioè tutte l'unica tabella che abbiamo creato perfetto adesso questo magicamente ancora dovrebbe funzionare quindi questa è slash nulla questa è la root quindi ogni volta lo potete fare anche voi adesso l'unica cosa che scrivere questa url credo sia abbastanza complicato quindi cerco di darvela se riesco allora ok c'è intanto qualcuno vuole fare una domanda stupidissima si intanto vi attacco il link di questa di questa app e poi c'è tra poco rispondo alle domande anche un ciao semplicemente ciao va bene se mi fate una domanda così vi attacco il link da visitare grandissimo ok adesso credo di aver risposto e quindi adesso se andiamo su visitors abbiamo la lista di tutti i visitatori quindi se voi visitate quel link teoricamente dovreste apparire qui magicamente infatti un ip almeno è cambiato quindi una persona l'ha fatto credo per oggi possa bastare perché se no non finiamo più ci sono già qualche domanda qualche domanda e se volete farne altre vi incoraggio a farle questo è il momento giusto intanto rispondo a Mauro che mi chiede che plugin uso per sublime text per aprire i file cercandoli per nome non credo sia un plugin è su mac command p e mi dà questa lista e posso cercare a index o qualunque cosa e faccio invio poi tra l'altro un'altra cosa utile è command r ovviamente qui c'è un metodo solo ma serve per cercare in particolare su un file determinati metodi quindi rispondiamo a cmd più p a Mauro ok a Mauro ho risposto se ci sono altre domande di qualunque genere credo che tra qualche minuto dobbiamo terminare non so se farvi vedere intanto sto pensando a farvi di farvi vedere qualche altra cosa qualcuno è arrivato ora ho i vostri IP e me li potrò rivendere a qualcuno non è vero non arrivano domande sono stato troppo chiaro o non ci avete capito nulla andiamo le ultime due slide dove sono i miei comandi i miei comandi i miei riferimenti spero di continuare questa comunque serie di webinar perché Rubio Reels è un mondo molto interessante e sinceramente c'è anche un buon mercato per trovare comunque lavoro ancora in Italia è una tecnologia abbastanza di moda diciamo trending e quindi ve lo consiglio tra l'altro è molto come ho già detto espressivo per cui è bello anche lavorarci non è complicato anche le barriere d'accesso non sono estremamente complicate questi sono i riferimenti di Godemotion che mi hanno permesso di fare questo webinar e chiudo ufficialmente questo webinar vi ringrazio a tutti per la partecipazione